eccoci qua eccoci qui sabato notte dinner and dance del convento di l'onato di brescia siamo in compagnia di questa coppia di amici di fidanzati marito e moglie chi lo sa adesso lo scopriamo iniziamo da lei la donna più alta di brescia si chiama erika ok adesso all'altezza sua erika da dove vieni da dove scusa ok il suo amico o fidanzato marito si chiama carlo 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 da dove vieni san paolo san paolo allora facciamo un'intervista doppia quando lei ha finito di ridere allora erika mi dici la cosa che ti fa più arrabbiare del tuo amico carlo e te carlo mi dici la cosa che ti fa più arrabbiare di erika un comportamento un atteggiamento una situazione vai erika ok canali su televisione invece te carlo e quando gli do i consigli non mi ascolta mai ma mai 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 una volta mai una volta dei consigli non mi ascolta ok che canzone volete cantare ok vai estate di negra amaro ma si sente bene in bilico tra santi e falsi dei sorretto da un'insensata voglia di equilibrio e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugare parole che oggi a stessa mai sarò ma senti che tremo mentre canto nascondo questa stupida allegria quando mi guardi e non senti che tremo mentre canto è segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai amore e giardino olores l'embilico tra tutti i miei vorrei non sento più quell insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnare capriole che ho nezzaria mai farò non senti che tremo mentre canto nascondo questa stupida allegria quando mi guardi non senti che tremo mentre canto è segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai in bilico tra santi che non pagano e tanto il tempo passa e passerai come sei tu in bilico e intanto il tempo passa e tu non passi mai bravi Carlo ed Erika da San Paolo quando mi guardi non senti che tremo mentre canto è segno di un'estate che vorrei potesse non finire vorrei potesse non finire vorrei potesse non finire mai ciao Erika, ciao Carlo finire mai finire mai grazie grazie Carlo che dire l'hai portata dentro a fare cantavi te così bene da solo ma siamo in coppia io e lei perché noi facciamo tutti insieme ah fate tutti noi in coppia fantastico bravo Carlo bella voce grande allora ragazzi vi spiego come vedere questo video andate sul sito internet www.convento.it se vi do un bigliettino di promemoria però lei mi conosce e sa come trovare questo video in alto ci sono i giorni della settimana clicchi sabato sera viene giù la schermata area youtube perfetto ok facciamo un grande applauso a Carlo ed Erika ciao ciao